ma quanto posso odiare la Roma cioè tra Roma e Juventus nel fare schifo nel fare schifo a giocare a calcio c'è una gara ragazzi porca puttana ma che gara è? niente, niente capoccio rossodero una partita finita in parità e meno male e meno male perché ci mancava che la Roma potesse sfangarla in quella maniera un murigno che veramente mi fa vomitare quando vuole provare a giocare a calcio l'avevo detto nel pre partita ma il video fu più azzeccato purtroppo la Roma avrebbe studiato tutti i modi tutti i modi per non fare giocare a Milano noi ovviamente oggi ci abbiamo messo del nostro perché è un primo tempo inguardabile un primo tempo inguardabile lenti nel fraseggiare lenti nel muovere la palla così è veramente facile per la Roma andare a spostarsi da una parte e dall'altra e bloccare simultaneamente da una parte Brandiaz dall'altra Leao da una parte Brandiaz dall'altra Leao partita che finisce 1-1 una partita senza dire in porta fino quasi alla fine dove praticamente su bruttissima palla persa di CDK c'è anche poi da dire che CDK perde la palla diciamo nella metà campo della Roma purtroppo il Milan lì la colpa di CDK è perdere la palla perché il Milan era tutto in avanti contropiede bellissimo gol di Dami Ebram che si conferma ancora una volta il mio sogno per il mercato estivo del Milan ma non sono qui per parlare di calciomercato sono qui poi per osannare fortunatamente il piede dell'angelo l'insospettabile Alexis Selmequer che su un meraviglioso cross di Leao in una partita difficile Leao riesce ancora oggi ad essere decisivo un cross sul secondo palla scavalcare tutti in becca Selmequer che fa passare la palla sembra sotto le gambe di Rui Patricio ragazzi che partita è stata è stata una partita di una rottura dei coglioni proprio infinita la mossa di Pioli non ha pagato secondo me allora l'ho detto nel pre partita ci stava oggi mettere il trequartista muscolare ma io avrei messo Krunic perché? perché quando tu hai la necessità di muovere palla velocemente di partire con verticalizzazioni rapide non puoi non mettere ben a stare davanti alla difesa ci sta l'errore per carità ci sta però quando tu vedi che non premia questa scelta inverti la posizione metti Krunic il trequartista e metti ben a stare dietro perché noi avevamo bisogno di uno che verticalizzasse veloce perché né Krunic né tonali hanno questa come loro caratteristica principe secondo me se devo trovare una sbavatura più è stata questa per il resto purtroppo ragazzi abbiamo scontrato la squadra più macellaia della serie A il calciatore che più odio io sono una persona sportivissima non auguro mai il male a nessun calciatore veramente però porca puttana Mancini cioè proprio tu mi vuoi far uscire il peggio c'è uno dei calciatori più vergognosi della serie A che va ad insultare avversario per avversario li va a provocare costantemente purtroppo abbiamo in qualche modo sprecato questa questa grande opportunità per dare una spallata non meritavamo assolutamente assolutamente la sconfitta mi rimane dentro tanta ma tanta amarezza per questa partita perché ragazzi dovevamo provare a vincerla e non siamo entrati in campo nella maniera migliore perché abbiamo regalato un tempo agli avversari non che abbiano fatto tanto l'abbiamo regalato come uno strateggiamento troppo lenti ripeto troppo lenti per andare sui singoli pessima la partita di Teo Hernandez ragazzi non mi è piaciuto per niente è stata una partita dove stava combinando a metà secondo tempo una serie dopo l'altra di minchiate entrati in un loop negativo peccato peccato perché comunque ultimamente sta offrendo ottime prestazioni buona partita di Leao buona partita di Leao non agevolato dalla squadra assolutamente troppo lenti per far arrivare palla costantemente marcato imbarcabile comunque nel secondo tempo quando si accende praticamente imprendibile buona partita di Krulic in fase di contenimento ha fermato qualche pericolosa occasione della Roma sotto Toro Brandiaz l'ho visto anche lui non agevolato da ricevere palla con velocità niente purtroppo facciamo fatica facciamo fatica quando è uscito Giroud abbiamo perso perché Orighi troppa poca roba non riesce a tenere mezza palla CDK un grave errore grave errore da parte di CDK è anche vero che poi purtroppo la squadra era tutta sbilanciata in avanti lo vedo un po' anche se è diverso come errore uguale all'errore che fece nel derby all'andata quando lasciò Brozovic senza seguirlo praticamente solo ma ragazzi cosa si può dire cosa si può dire di questa partita tanta amarezza il non calcio questa volta di Mourinho ha premiato la sua squadra per ottenere un misero punticino rallentata la corsa alla Champions a questo punto non so cosa sperare in Inter Lazio da una parte magari forse un Inter vincente potrebbe avvicinare ancora di più la Lazio forse sarebbe meglio il pareggio onestamente ho difficoltà difficoltà fatemi sapere qua sotto ragazzi cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale raggiungiamo i 1000 iscritti nel minor tempo possibile niente ragazzi tanta amarezza tanta amarezza ditemi voi secondo voi chi è il migliore in campo secondo voi se avete visto altri errori magari da parte del mister da parte dei giocatori non lo so ho veramente i coglioni girati ero veramente se potevo spaccare tutto se la Roma avesse vinto la partita fortunatamente è arrivato il gol della providenza di Saint-Megard però che schifo un primo tempo veramente brutto buona serata a tutti grazie a tutti